... Chi è quello? Sono io? Sono io? I vecchi e i deboli sono spaccati. Oh, sei tu. Prendi. Ti stanno cercando. Merda. Arrivano. Nazista, questo ora è il nostro sottomarino. Non lo riavrai. Resisti, Anya. Sto arrivando. Fermo, Blaskovic! Stop! Non muovere un muscolo finché non te lo dico io, capito? Capito? No, non scorreggiare nemmeno. Le microonde ti rigorranno in poltiglia e tu non puoi diventare poltiglia. Vero, Simpson? Ok, aspetta. Aspetta. Ora, vieni! Attento, il pavimento è bagnato. Significa che il sistema funziona. Vieni. Vieni. Emettitori di microonde con... Presto, presto, presto. Ah, ci siamo. Uno, due, tre. Oh, Fiedersen, feccia nazista. Blaskovic, sono felice di vederti sveglio, ma non dovevi alzarti dal letto. Anya, dove si trova? L'ultima volta che l'ho vista era con Caroline a difendere l'ascensore della torretta. Dimmi come raggiungerla, Seth. Engel, sei stato a letto per cinque mesi e il tuo corpo non funziona. Ti rendi conto? Hai i reni distrutti, ma magari hai difficoltà a urinare, a usare il tuo schmack e a fare molte altre cose. Non c'è tempo. Dimmi solo. Frau Engel, ti sta cercando, ha mosso mari e monti e ora è riuscita a trovarti. I nazisti sono entrati nel sottomarino. Molti feriti, molti morti. Io sono rimasto separato dagli altri. Devo andare. No. Adminisca in Cienico, ho detto di no. Seth, dimmi come arrivare all'ascensore della torretta. Tu sei un Nox. Testardo come un Nox. D'accordo. Dunque, c'è una marea di nazisti tra noi e l'ascensore della torretta, ma... Ho messo diverse trappole che però non ho avuto il tempo di attivare. Tieni, guarda qua. È una mappa. Mostra la posizione delle trappole. Usala contro quei per carte fascista. Ok. Ok. Attenzione. Cerca di non farti ammazzare per piacere. E ora vai. Fra Wengel, mi stai cercando? Le parti si sono invertite, signora. Ora sono io a cercare te. E ora sono io a cercare. E ora sono io a cercare. Tu sia. Fai ciò che devi per tenere tutti in vita, finché non arrivo. Il fatto agire, friori. Sono io a cercare il punto di attivano i nostri andare a cercare. Momp productivity ciò che gli 하지40pati, però immagino salire. A castersi degli altri��가 posizgeri dannate. Grazie a tutti! Grazie a tutti 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 Ok, cinghia invertita Si sale Grazie a tutti Sono solo un peso Non dire sciacchezze Ok In piedi ora Sei un po' ingrassata Sette dice che avremo dei gemelli Non ora Kinderlach Se sopravviverete ci sarà tempo per schmuzzerai Ora bisogna uscire sul ponte Aspetta William Grazie a tutti